Compaiono per Modica cantieri di lavoro avviati dall'amministrazione di Palazzo San Domenico che non seguono le vigenti norme sui lavori pubblici e la denuncia del consigliere dell'opposizione a Modica. In una nota firmata da Michele Colombo si punta il dito contro la leggerezza e la mancanza di regole con cui a Palazzo San Domenico si fanno partire cantieri di lavoro per la città. Nella nota si critica apertamente la leggerezza con cui il sindaco Abate bypassa la normativa nazionale e pecche in omissioni nella necessaria cartellonistica. Colombo scrive che la legge prescrive l'obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni e che il cartello deve necessariamente contenere le informazioni sul tipo e l'importo delle opere da realizzare, le modalità di realizzazione, la stazione appaltante, le imprese esecutrici, i nomi dei progettisti e dei direttori dei lavori responsabile del procedimento. Il consigliere firmatario tuona contro il sindaco Abate ricordandogli che Modica non è una proprietà privata dove il primo cittadino può disporre a suo piacimento. Un problema semplice di cartellonistica che per ora presenta un atteggiamento più ampio di come si governa una città.